A un certo punto, a Catania, alla playa c'era uno che aveva una mano in questa maniera, uno che aveva nasciuto con questa malformazione, stava passando la playa, da Rina, d'inverno, non è che c'era gente, e mentre che passava la figlia è un Vinci, vedi chi c'era sotto la sabbia? E c'era una specie di aggeggio metallico, lo tira fuori, una lampada di Aladino, precisa, come chi ne aveva visto un don film, e lei dice, come c'era? cominciava con la maniera da scuola e riprovvissimamente, io via la nuvola blu, nasce il Genio, che ha avuto 2000 anni di cui sono qui, forse l'altro è il desiderio, forse aiuta! Se il primo desiderio ci vuole la mano come la luce, come non glielo di scuola, come contrario! Tretino!